Questa seconda edizione di Didacta siciliana è meravigliosa. Lo abbiamo visto stamani già dalle prime ore di apertura, sia per la presenza degli espositori che sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, ma anche per l'entusiasmo dei visitatori. Ci attendono tre giorni densi di programmi, di seminari e soprattutto della messa in scena delle nuove tecnologie che hanno a che fare con il futuro della scuola. Noi siamo contenti come Firenze Fiera di aver realizzato già dallo scorso anno questo spin-off a Mister Bianco in provincia di Catania perché siamo consapevoli che il nostro paese può migliorare soltanto passando da un lavoro sulla scuola e quindi unire all'edizione di Firenze in marzo, questa di ottobre, in questa bella terra è grande motivo di soddisfazione e penso che continueremo su questa strada anche nei prossimi anni.